Racconta a Rai Storia un momento che ha segnato la tua vita. La catena della fraternità prendono parte di italiani di ogni classe. Mi interessa di più come lavoro. Inviaci un buon esempio per far ripartire la nostra storia. Mi ha fede nella genialità italiana e ha fatto insistere. Sono veramente orgogliosi di questo loro capolavoro. Scrivi una mail a storia-rai.it o vai sulla pagina Facebook di Rai Storia.